Due rumeni sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di sfruttamento della prostituzione e di violenza nei confronti di tre ragazze loro connazionali. I due arrestati, Ilie Rusnak, 37 anni, residente ad Asti, e Dan Marius Bledea, 22 anni, abitante ad Alessandria, portavano le ragazze sulle strade prima dell'Astigiano e poi in un secondo momento nell'Alessandrino. L'incasso, che per ogni serata si aggirava tra i 6 e i 700 euro, veniva diviso al 50% con le prostitute. La scorsa notte la polizia ha bloccato il Ruskan mentre in auto stava rincasando. Sulla vettura e nell'abitazione è stata recuperata una consistente quantità di profilattici e 2.200 euro incassati con le tre ragazze. Anche la vettura è stata sequestrata. Ma sentiamo il capo della squadra mobile, il vicequestore Carmine Bagno. La prostituzione è un reato ma è lo sfruttamento. Il reato è tra l'altro quello più grave nell'ambito della prostituzione. Questa operazione che abbiamo fatto è un'operazione che ha richiesto l'impiego di molti uomini ed è molto, ma anche molto gravoso perché abbiamo dovuto fare dei servizi notturni. Comunque con questo abbiamo dato uno schiaffo forte a questo fenomeno della prostituzione che è quello che più crea problemi. E per domenica prossima è tutto pronto a Disola d'Asti per la quindicesima edizione di Fiori in Fiera. Un avvenimento che coinvolge tutto il paese e che vedrà la partecipazione di migliaia di persone. Vediamo. Una manifestazione che è nata per promuovere il territorio e l'attività florovivaristica della Valle del Tanaro ma si è sempre anche sposata con discorsi che vengono fatti in serate a tema, appuntamenti mirati per la tutela del paesaggio. Non in ultimo l'incontro che faremo domenica prossima in occasione del Club della Fiera che riguarda un argomento di attualità che è quello proprio delle energie rinnovabili. Un programma molto nutrito di impegni, di appuntamenti. Si parte dal mattino della domenica 18 dove ci saranno gli espositori che proporranno il loro meglio della loro produzione. Si continua con il convegno sulle energie alternative, la sfilata di moda organizzata dalle commercianti di isola, l'esibizione di Enzo Cortesi dell'area Zeli che è sempre nel pomeriggio, la corale e fino a arrivare in serata, in chiusura verso la serata, verso le 8. E nell'ambito di Coldiretti Asti per sviluppare il progetto di una filiera agricola tutta italiana, ieri il coordinamento Donne Impresa Coldiretti Asti ha promosso un convegno dal titolo una filiera agricola tutta italiana, i mercati di Campania Mica e la fornitura di prodotti locali alle mense del territorio. Sentiamo. Direi che la ristorazione collettiva, i contatti con la grande distribuzione organizzata e quindi i supermercati e quanto si può sviluppare attraverso la vendita diretta organizzata anche attraverso la filiera dei consorzi agrari, penso che possono essere le nuove frontiere economiche delle imprese agricole. Questo progetto della filiera agricola tutta italiana è soprattutto un movimento culturale, un modo per far capire alle persone quanto sia importante la sicurezza alimentare, una sana alimentazione, l'importanza della salvaguardia del territorio, l'importanza della distintività delle produzioni italiane. A questo proposito la presenza delle donne è molto importante, faccio quasi un appello alle aziende agricole soprattutto condotte anche da donne ma non solo, all'apertura in culturale a questo nuovo progetto, questo lancio che Sergio Marini vuole dare all'agricoltura italiana. E anche per oggi qui da Asti è tutto, grazie per averci seguito, la linea torna allo studio.